Ebbene carissimi amici ben ritrovati come sempre sul mio canale. Venezia è pronta a farci vincere l'Ambosecco con il 90. Un grande scaccomatto al 90 di Venezia con una condizione di gioco infallibile. Questa è una previsione che quando la mettiamo in gioco paga la vincita senza margine di errore. Una vera bomba. È una condizione di gioco che non ho mai presentato ma che ho analizzato e continua a dare dei risultati enormi. Giocheremo il 90 secco su Venezia più 7 ambi che vi darò come al solito in modalità vincita avvenuta con pagamento soltanto ovviamente se uscirà l'Ambosecco. È una previsione che spesso andrò a proporvi e che spesso andremo a vincere quindi attenti e pronti a prendere sempre questa grande giocata scaccomatto al 90 perché ha un'affidabilità altissima. Quando si presenta la condizione si va a vincere. Queste sono le ultime vincite ottenute tutte le volte che si è presentata la condizione ottimale per andare a mettere in gioco questo 90 con i 7 ambi su unica ruota. Guardate quanti ambi abbiamo realizzato. Dico l'ultimo proprio 90-17 a Palermo nella scorsa estrazione del 26 settembre quindi in virtù di questo altro grande risultato ho deciso di andare a proporvi lo scaccomatto al 90 con la nuova condizione di Venezia. Attenzione non perdetela perché andremo a fare un altro bellissimo scaccomatto al 90 un'altra bellissima vincita. Questo è l'indirizzo email a cui dovete contattarmi ve lo metto anche in descrizione per aderire e accettare la modalità vincita avvenuta con impegno da parte vostra di giocata ormai la conoscete benissimo e vedrete che bella vincita andremo a realizzare. Per adesso un saluto a tutti mister sbancolotto.